Ciao a tutti e benvenuti su Mondo Promozioni. In questo video vi mostrerò le 5 migliori asce spaccalegna. Inoltre vi lascio il link di tutte queste fantastiche asce spaccalegna qui sotto nella descrizione del video. Iniziamo. Numero 5. Al quinto posto troviamo l'ascia Torque. L'ascia spaccalegna professionale Torque, ha una struttura compatta e maneggevole, è piccola e leggera, ed è progettata appositamente per spaccare la legna in modo semplice e sicuro. Il manico ha una presa ergonomica, con un rivestimento in gomma per garantire una presa salda e sicura durante l'attività di spacco della legna. La testa in acciaio è saldamente alloggiata sul manico ed è provvista di una pratica guaina in gomma per proteggere la lama. Il prezzo è di 24 euro. Numero 4. Al quarto posto troviamo l'ascia Mivos. L'ascia universale a mano è ideale per tagliare legna da ardere, tronchi d'albero, e rami. È un valido aiuto per i lavori all'aperto, di giardinaggio e di falegnameria. L'impugnatura dell'ascia è antiscivolo, quindi puoi essere sicuro che lo strumento non ti cadrà di mano durante il lavoro. La lama in acciaio ha una copertura protettiva in gomma per una conservazione e un trasporto sicuri. L'accetta spaccalegna di legno, ha una testa forgiata in acciaio al carbonio temperato di alta qualità, che rende l'accetta più resistente, offre una spaccatura liscia, affilata e rapida, e rimane affilata più a lungo. Il prezzo è di 30 euro. Prima di passare al prossimo prodotto, iscriviti al canale per non perdere le migliori offerte. Numero 3 Al terzo posto troviamo l'ascia X-Forst. Ascia tradizionale vichinga, leggera, stabile, perfetta compagna per attività all'aperto e lavori in legno. Testa dell'ascia in acciaio al carbonio forgiato, garantisce stenza e produce fessure affilate. Manico in legno di noce americano originale, offre una maggiore sicurezza. Le lunghe fibre di legno hanno un effetto ammortizzante e riducono il carico della mano. Il legno offre una maggiore robustezza e ha un effetto elastico durante la fessura. Doppia testa di fissaggio con due anelli in acciaio. Il prezzo è di 34 euro. Numero 2 Al secondo posto troviamo l'ascia Wisman. Questa mazza spaccalegna è un attrezzo multifunzione. La testa della mazzetta serve a colpire i cunei, mentre la testa dell'ascia viene utilizzata per tagliare alberi e lavorare i pezzi di legno. La parte verde in materiale termoplastico aderisce alla mano in modo ergonomico e presenta una superficie antiscivolo. Il manico è fissato saldamente alla testa dell'ascia. Il prezzo è di 53 euro. Numero 1 Al primo posto troviamo l'ascia Fiskars. Quest'ascia da spacco universale, è ideale per spaccare tronchi di grandi dimensioni sopra i 30 cm di diametro per il camino, la stufa, il barbecue o il fuoco da campo. La lama estremamente affilata e il perfetto equilibrio tra la testa e il manico, assicurano un lavoro meno stancante. Infine, il manico antiscivolo è resistente alle intemperie, e la struttura inseparabile formata da testa e manico, garantiscono la massima sicurezza. La lama è realizzata in acciaio inox antiaderente, per assicurare una facile penetrazione nel legno. La lama di lunga durata può essere affilata senza problemi. Manico fuso direttamente sulla testa dell'attrezzo per una maggiore sicurezza, impugnatura stabile e confortevole. Il prezzo è di 80 euro. Vi ricordo che trovate tutti i link qui sotto nella descrizione del video. Grazie per la visione. Grazie per la visione.